8 minuti di puro terrore sono quelli che hanno vissuto clienti e dipendenti di un bar tabacchi di barra durante una rapina a mano armata. Le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale hanno ripreso l'intera scena con i rapinatori che entrati armati di pistola e minacciando tutti i presenti svaliggiano il negozio portandosi via con tanti e tabacchi prima di scappare con il bottino. Il titolare del bar ha inviato le immagini della rapina a Francesco Emilio Borrelli, deputato campano per Alleanza Verdi Sinistra che le ha pubblicate sui propri profili social. Si tratta dell'ennesima rapina avvenuta negli ultimi giorni ai danni di tabaccai. Il momento è davvero drammatico ha commentato Borrelli per i commercianti, per gli imprenditori, per i cittadini. Oggi dove si è al sicuro da nessuna parte, nemmeno a casa propria vogliamo un nuovo piano di sicurezza. Vogliamo soprattutto, conclude Borrelli, la certezza della pena per questi criminali. Il colpo sembra essere opera di professionisti. Il locale aveva aperto da una dozzina di minuti, i malviventi hanno agito con freddezza. Il rapinatore armato ha caricato la pistola sotto gli occhi degli avventori terrorizzati, ha avuto la lucidità di far uscire dal bar una ragazza di 18 anni che stava facendo colazione insieme al padre e alla richiesta di consegnare il telefono cellulare aveva rifiutato apparendo estremamente agitata. Il bandito l'ha fatta sedere al tavolino e le ha addirittura offerto uno dei caffè che i dipendenti avevano preparato per i clienti. Poi ha intimato al cassiere di consegnare le chiavi del blindato. Il bottino ammonta circa 20.000 euro di tabacchi e 5.000 euro in contanti. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile diretta da Alfredo Fabrocini. Si indaga su possibili collegamenti fra la rapina e il tentativo di estorsione denunciato un mese fa dal titolare.